Musica Buongiorno a tutti, io sono Alessandro Longo e faccio parte di X-Game Il nostro team è formato da Tommaso Baglioni, che è l'ideatore e studente di economia qua in Bocconi insieme a me e insieme a Leonardo Arrighi poi Francesco Bindi, studente di giurisprudenza Filippo Baglioni, studente MBA e esercente della professione forense e Marco Esposito, ricercatore informatico Cosa ci accomuna? La passione e la conoscenza per il mondo dell'intrattenimento videoludico in poche parole dei videogiochi sostanzialmente ne conosciamo anche i lati negativi ma soprattutto ne conosciamo il grande potenziale economico perché solo in Italia per esempio i clienti, i videogiocatori, i target della nostra idea sono più di 5 milioni noi crediamo che il videogioco in quanto forma d'arte dovrebbe essere accessibile a tutti e quindi la mission di X-Game è un po' quella di permettere di videogiocare a basso costo nello specifico X-Game propone un'idea innovativa di e-commerce che raffina e rielabora quello che è il concetto del baratto sostanzialmente permettendo ai vari utenti di scambiare videogiochi online attraverso l'utilizzo di una moneta virtuale che nel nostro caso abbiamo chiamato Stella noi siamo convinti che la cooperazione sociale quindi tra videogiocatori e l'abbattimento dei costi che ovviamente ne deriva possa far sì che i videogiocatori possano tornare a vivere l'esperienza videoludica in maniera spensierata senza dover per forza pensare a quello che è il lato economico che troppo spesso è il motivo principale che ferma l'acquisto di un eventuale videogioco e vi ringrazio per l'ascolto, ringrazio Speed Me Up per l'opportunità che ci sta dando per la fiducia, grazie a tutti Grazie Grazie Grazie